Salve a tutti ragazzi, benvenuti oggi in questo nuovo video, io sono Marco e oggi ci ritroviamo con The Bad Batch. Si fanno chiamare la Bad Batch. Ho una notizia buona, una notizia cattiva, da quale volete iniziare? Io direi che iniziamo dalla cattiva. Una delle teorie che ho fatto nello scorso video è fallita clamorosamente, ma sapevo già che lo sarebbe stato. Quella in cui dicevo che sarebbe comparsa Ventress perché si vede in un video combattere la Bad Batch contro una donna. E invece non era Ventress, ma era la cacciatrice di taglie Fennec. Quindi niente, è fallito completamente, l'arco l'abbiamo visto nell'ultimo episodio, quindi per chi non l'avesse ancora visto andatevelo a vedere. E così si chiariscono entrambe le basi di quella teoria, che crolla miseramente. Ma conoscendo Filoni farà ricomparire Ventress, quindi io ci spero. Seconda teoria era sarebbe ricomparso Rex, e guardate qui, tadaaa! Esatto ragazzi, è confermato. Quindi 1-1, palla al centro. Detto questo, nel video di oggi voglio ricapitolare e capire, ok? Da chi è stata mandata la cacciatrice di taglia. Noi sappiamo che lei sta chiaramente cercando la bambina. Quindi, la domanda è, per conto di chi? Le persone possibilmente coinvolte, guardando in realtà tutto Star Wars. Non guardiamo solo questa serie tv, perché io mi aspetto qualcosa in realtà. Allora, sappiamo benissimo che al momento Boba Fett non è plausibile, perché i loro due si sono conosciuti su un altro pianeta, in The Mandalorian. Adesso non vorrei dire una cavolata, ma mi sembra che sia Tatooine. Ho un vuoto di memoria, spero sia quello di noi, avrebbe detto una cavolata pazzesca. Quindi, lui assolutamente no, che siamo conosciuti lì. Potrebbe essere l'impero, però questa opzione non mi convince molto. In quanto, quando il nostro carissimo Tarkin parla della Bad Batch, nel primo episodio mi sembra, non un secondo, adesso un attimo di vuoto perché è passato il tempo, parla di cinque soldati speciali. E noi sappiamo che i soldati speciali in realtà... cioè i soldati, i cloni speciali in realtà sì, sono cinque. Ma non come li intende lui, perché Echo è sì un clone speciale, ma in realtà lui è nato come un normalissimo clone. Quindi, in realtà sappiamo che i cloni speciali sono i quattro della Bad Batch e la nostra carissima ragazza. Ok? Quindi sì, sono cinque, ma lui secondo me non pensava alla ragazza come clone speciale. Ma ecco, quindi deduco che sicuramente Tarkin non c'entra in questo. È molto più probabile che siano i Kaminoani l'averla ingaggiata, anche se questa teoria, che alla fin fine è la più plausibile perché loro hanno già dimostrato di sapere il valore di questa ragazza, quando ad esempio li vediamo parlare dopo la riunione con Tarkin, capiamo già che c'è un qualcosa dietro. Quindi, al momento delle informazioni che abbiamo, queste due sono le opzioni. L'impero oppure i Kaminoani. Io l'impero lo scarterei proprio a priori, perché no. Però, la parte dei Kaminoani ci sta abbastanza. Anche se io mi aspetto un qualcosa di più, nel senso mi aspetto l'ingresso di qualche altro personaggio non ancora presentato, che potrebbe fare la parte di Mandante. Lo scopriremo questo venerdì, secondo me. Poi comunque vedremo. E quindi, anche perché ormai la serie si è abbastanza delineata, nonostante manchino molti episodi, sappiamo che circa il filone sarà... Il filone. Il filone sarà praticamente loro che cercano di barcaminarsi in questa nuova realtà, per poi cercare di andare a salvare Crosshair, visto che non è colpa di Crosshair. E questo alla fine sarà il loro obiettivo finale, andarlo a salvare. Piccola chicca, ragazzi. Non so quanti di voi abbiano notato, ma Wrecker, negli ultimi episodi, ha qualche problemino alla testa. La mia idea è che il chip potrebbe prendere il sopravvento in lui e portare qualche scompiglio nella squadra, per poi essere riportato alla normalità. Fatemi sapere con un commento qui sotto se lo pensate anche voi che Wrecker potrebbe un attimo finire sotto il controllo dell'impero tramite il chip inibitore, oppure se la nostra squadra riuscirà a disattivarlo prima che questo accada, cosa che vedo un po' improbabile, in quanto nonostante fosse da due o tre episodi qui dicono così, dobbiamo capire cosa sono questi chip, però non hanno ancora guardato una ciospa, quindi ok. Niente, ragazzi, questo era un piccolo video di un paio di mie riflessioni, un paio di mie cose. Dovrebbe uscire... No, anzi, quasi certamente uscirà un video prossima settimana, quindi adesso ripartiamo con la cadenza settimanale, si spera. E niente, questa serie mi sta facendo tanto, perché, come ho già detto nell'altro episodio, sono feel pazzesche dei Clone Wars. E niente, ragazzi, io direi che il video riflessione finisce qui. Scrivete con un commento qua sotto qualsiasi cosa che vi venga in mente. Mettete un bel mi piace. E andate a seguirci su tutte le nostre pagine social, vi lascio tutto in descrizione, che sia Twitch, Telegram, Instagram, qualsiasi cosa che vi venga in mente. E niente, ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e tutta la tiritera solita. E niente, ragazzi, noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao! Ciao!